Rettore Caputi, dobbiamo imparare dunque a convivere col Covid? Sì, assolutamente. Questi incontri che noi stiamo facendo servono in parte a recuperare i ragazzi o anche i non più ragazzi a una vita normale. Insomma, c'è stato un trauma, devo dire, di durato due anni importante. Dall'altra parte, ormai bisogna dare atto a un fatto, e cioè che finché non ci saranno delle terapie adeguate e dei vaccini a più lunga durata, ovviamente dobbiamo imparare a convivere col Covid, perché non è possibile che la vita sociale finisca così in questo modo e nemmeno quella lavorativa. La flessione sulle iscrizioni non c'è stata, però sicuramente la flessione sulla presenza, sì. Noi cerchiamo di far tornare gli studenti in presenza, sia per le elezioni che per gli esami, però dove è possibile, ho notato che gli studenti preferiscono almeno una grossa percentuale e rimanere online, almeno per le elezioni. L'Abruzzo, devo dire, che pur essendo una regione che aveva pagato il duolo scotto del commissariamento e quindi aveva avuto un blocco dei turnover, è riuscita praticamente, avendo proprio un'informità territoriale al punto di vista organizzativo, perché l'Abruzzo è una delle poche regioni che non ha aziende ospedaliere, ma aziende sanitarie locali, dove c'è un mix di ospedale e territorio, è riuscita a gestire al meglio queste poche risorse di cui disponeva e quindi facendo anche uno shift da personale ospedaliero sul territorio. Infatti i grandi hub vaccinali sono stati proprio il frutto di un grande impegno di personale ospedaliero verso il territorio che comunque era abbastanza carente. Il tracciamento era stato dimenticato perché la cultura delle malattie infettive era stata messa da parte degli ultimi anni, svolgendo molto l'attenzione verso un po' quello che sembrava la sfida del futuro, cioè le malattie oncologiche. Poi questo tipo di agente virale, oltre ad essere una novità per i nostri sistemi immunitari, era anche una novità perché ha una capacità velocissima di creare varianti. Man mano che interagisce con l'ospite crea varianti perché tende a sopravvivere di più. Però dall'altra parte questa sua capacità di mutazione depone in modo favorevole verso un'elaborazione di varianti che vogliono convivere con le persone e quindi ci faranno sicuramente, porteranno a una situazione di endemia, però con una variante molto più buona e quindi molto più mite. Quindi già stiamo assistendo a questo shift, soprattutto se si è vaccinati, se si è completato il percorso vaccinale.